Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo nel mio server aperto da proprio da poco in compagnia di un essere strambo che è morto si chiama djray33 vabbè, quando vi spawnerete siete qui dovete fare questo e questo poi potrete giocare qui ci sono tutte le regole e qua c'è il cibo gratis, mele qua c'è l'armatura di pelle, però state attenti che se l'avete, dovete stare attenti qui ci sono delle info, leggetele vabbè, qui poi potrete scendere ahia, qui lag non fate conto perché servono lag, sono io ecco ecco, bravo qua c'è l'allevamento lì c'è un'altra roba che non vi sto a dire quello che c'è dentro in tutte le zone perché comunque aspettate ok scusate ho dato più roba a minecraft bene qui c'è un'altra cosa sorpresa qui invece c'è una fattoria che c'è un'altra roba che c'è un'altra roba dentro è te potete stare e mettere la roba nelle faci bene oggi vabbè warzone che si esce facendo slash warub e la mob arena che si entra facendo slash majoin e si esce facendo e morendo poi facendo slash maleave aspetta devo spiegare questa banca e shop con i cubi in modo così vedete ecco poi i plugin sono tanti e c'è anche quello che è una vita qui bene premete scendete aspetta qui ci sono dei portali vedete quello dove potete andare portare aspetta qui c'è la città comprare i lot solo che avete bisogno dei siucci che si guadagnano uccide ogni mob poi cacchio aspettate poi bene poi qui vedete c'è un che qui c'è il porto dove potete comprare delle barche e la candapisca e qui potete cucinare i vostri pesci il specialmente aperto fatto con una magia fatto un maggio video a molti amici di video e da Fulminoschio un caloso saluto e anche da questo essere qui 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 ok 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 ok